Non è stata una partita spettacolare quella vista lo Stefano Lamotta per l'esordio casalingo del Nicosia Volley nel campionato di balla a volo di Serie C. Una sconfitta meritata per i ragazzi del coach Mimmo Trippi maturato durante tutto l'incontro. Si è vista una squadra priva di verve e personalità, convinta di essere la vittima e sacrificare di turno. Il Carlentini è parso di un'altra categoria, forse più per demeriti dei locali che per meriti propri. Un 3-0, 25-14, 25-20, 25-19 è netto e senza discussioni. Ci sarà molto da lavorare per il coach Trippi. La squadra è a pasta svogliata e con le solide amnesie di gioco durante l'incontro. Dei faianz dovute principalmente alla scarsa concentrazione ed alla poca convinzione dei propri mezzi. Quando la squadra ha cercato di giocare ha ottenuto qualche risultato, ma nel momento in cui la poca convinzione dei propri mezzi ha preso il sopravvento, gli avversari hanno trovato il varco giusto per travolgere i biancorossi di Nicosia. Con questo risultato il Carlentini dell'esperto Lopes sale a punteggio pieno in testa alla classifica del girone B. Mentre per i ragazzi di Trippi è notte fonda con 0 punti, ma c'è tutto il tempo di recuperare fino al prossimo incontro, quando Pitone e Compati faranno visita alla siciliana Maceri e Servizi, squadra di Letoianni, che viaggia anch'essa a punteggio pieno e ad oggi non ha perso un set. Sarà l'occasione per dimostrare che almeno sul piano del gioco e caratteriale occorre uscire gli attributi, sudare ed onorare la maglia che si indossa. Le sconfitte fanno parte della stagione che si affronta, ma uscire a testa alta da ogni incontro dopo aver dato tutto è un dovere per ogni squadra che si rispetti.